... Quale regione del Brasile è qui? Noi siamo qui, Stato Tocantins, Parà, Bahia, Da qui sul del Brasile, Noi siamo tutti in Chini qui nel Brasile E noi siamo qui più o meno di 500 persone Qui vogliono... Grazie a tutti Grazie blocked per se a sett Vince... un liar 집에 qui a sottotitoli Quindi il sottotitolo che è Baurani che vive nella selva di Ecuador